Parliamo di sclerosi multipla, una malattia con tante terapie ma senza una cura che quindi accompagna per tutta la vita il paziente. Accanto a quelle che sono appunto le terapie farmacologiche, che cosa si può fare e cosa si fa per aumentare la qualità della vita dei pazienti? Allora per quello che riguarda le terapie sicuramente non sono cure perché non hanno lo scopo per il momento di debellarla questa patologia ma non solo lo scopo di modificarne l'andamento. Quello che noi possiamo aggiungere, il plus che possiamo dare è quello di accompagnare la persona con questa patologia in quelle che sono le sue manifestazioni che vanno appunto da veri e propri problemi nel svolgimento della loro attività quotidiana, quelli che sono disturbi che incestano proprio anche di interventi di specialisti. Parlo per esempio dei disturbi che riguardano soprattutto la sfera viscerale, quindi quelli spinterici e ancora di più per quello che riguarda l'aspetto di benessere generale che coinvolge la parte della riabilitazione. La riabilitazione non è comunque una panacea, nel senso che molti si aspettano dalla riabilitazione la risoluzione del problema ma è sicuramente un approccio funzionale che aiuta la persona in tutte quelle che sono le sue funzioni, motorie, visive, percettive. Ci sono studi anche su tecniche un po' alternative alla riabilitazione. Molti dei miei colleghi hanno fatto studi e hanno dimostrato che c'è un miglioramento della qualità di vita della gestione di questa patologia, approcciando con lo yoga, approcciando con lo shatsu ed altre discipline che possono, prendendo diciamo così, dandosi come obiettivo quello di migliorare lo stato generale sia mentale che fisico della persona, migliorano anche l'andamento della patologia. Ecco, su questo noi non abbiamo in questo momento un percorso specifico, però potrebbe essere interessante, così come nella spasticità quando c'è questo fenomeno che colpisce in particolare abbiamo il sesso maschile, quindi la rigidità del tono muscolare. Oggi possiamo usufruire anche di farmaci che sono i derivati della cannabis oppure in Italia è possibile accedere anche alla cannabis galenica che migliora sicuramente la possibilità di diambulare e rende anche più rilassata la muscolatura e più funzionale. Quindi ci sono tanti altri aspetti che sicuramente vanno curati. L'aspetto psicologico è un altro aspetto che fa da supporto e sicuramente aiuta la persona ad affrontare meglio quello che sono la propria vita e anche l'impatto nell'ambito della famiglia e nell'ambito sociale. Anche questo è un supporto importante, oltre a cogliere in alcuni casi aspetti che possono riguardare la sfera cognitiva, ma per fortuna con le nuove terapie che bloccano anche la degenerazione, anche questa è una sfera che vedremo sempre di meno coinvolta. Fino a vent'anni fa una diagnosi di sclerosi multipla era spesso associata a una sedia a rotelle, comunque a una disabilità motoria grave. Oggi qual è la situazione? Allora, noi non possiamo nascondere che ci sono alcune forme che purtroppo fin dall'inizio hanno questo esordio che è già progressivo e ancora oggi sono giovani che si devono presentare proprio perché il danno motorio è importante, non sono autonomi soprattutto nella demobilazione con la carrozzina. Però diciamo che rispetto a quella che è la popolazione che noi vediamo comunemente, queste rappresentano veramente un 2-3%, ecco quindi veramente sono molto, ha un numero molto esiguo. Purtroppo quelli che adesso le persone comuni vedono in carrozzina sono pazienti che hanno un'età media di circa 50 anni che non hanno potuto usufruire delle terapie che noi abbiamo attualmente, quindi ancora questa realtà esiste. Qualche caso, ripeto, proprio isolato lo diagnostichiamo ancora adesso, che già ha questo andamento. E questo è il nostro cruccio proprio legato al fatto che non sappiamo perché si comporta così, questa patologia perché nella maggior parte, per fortuna, delle persone ha un andamento, in una piccola parte invece c'è già una quota degenerativa elevata già al momento della diagnosi, quindi una diagnosi che è mediamente intorno ai 20 anni, ecco questo è quello che noi vorremmo capire nel tempo perché queste lesioni della sostanza bianca hanno questo andamento così diverso e quindi danno queste manifestazioni anche così, che portano a disabilità di grado elevato. Credo che in realtà ci siano già degli studi che i ricercatori di base stanno portando avanti con molta solersia proprio per riuscire a rispondere a questa domanda, perché questa forma, perché non quell'altra. Ecco, quindi l'evoluzione e anche questa idea che questa progressione si comporti così subdolamente da essere sempre lì pronta a scattare, ora noi la teniamo molto presente, del motivo per cui cerchiamo di iniziare precocemente già la diagnosi, mentre i criteri, per esempio, dati da AIFA per l'utilizzo dei farmaci vorrebbero che noi non tenessimo conto di questa precocità, questo per il costo dei farmaci. E sui farmaci quali sono gli ultimi sviluppi della ricerca? Sappiamo che ce ne sono tanti ormai. Gli ultimi sviluppi della ricerca sono tanti e usciranno degli altri farmaci anticorpi monoclonali, ci sono farmaci che sono in corso di studio, che sono stati mutuati dall'ematologia e rimane comunque il momento che la terapia più efficace in assoluto è la terapia che resetta e quindi le due terapie che reseptano sono fondamentalmente l'alentuzumab e il trapianto di celluli staminali. Probabilmente nel futuro, come per altre patologie autoimmuni che non sono neurologiche, sentiremo parlare di combinazioni di farmaci, cioè più di un farmaco, non solo monoterapia.